Il 4-2-3-1 Il 4-2-3-1 Il 4-2-3-1-3-1 Il 4-2-3-1-3-1 molto molto sottile però per il direttore di gara è rigore dagli 11 metri Simone Moretti uno degli altri ex viene ipnotizzato da Mattia Maggioni che para il secondo rigore consecutivo dopo questo episodio sfavorevole alla Pro Sesto cresce a dismisura al Seregno al trentesimo la battuta di De Masi viene rimpallata dalla difesa della Pro Sesto un minuto dopo ancora ci prova Luca Di Lauri con la sua conclusione che viene deviata in calcio d'angolo da una difesa della Pro Sesto al trentatresimo il gol la punizione di Fabio Perissinotto sulla quale tutt'altro che perfetto Giussani la respinta è facile facile per Alessandro Comi al quinto centro in campionato e il gol dell'1-0 per il Seregno un po' il déjà vu rispetto alla gara dell'andata dove il rigore questa volta l'ha sbagliata la Pro Sesto al quarantesimo Seregno scatenato Pedrocchi verticalizza per Comi il suo diagonale però questa volta viene trattenuto da Giussani passiamo alla ripresa dove dopo 6 minuti la Pro Sesto rimane in inferiorità numerica per il secondo cartellino giallo rimediato dal numero 2 Castelnuovo che lascia dunque i compagni in 10 contro 11 da lì la partita prende una piega assolutamente congeniale al Seregno che controlla senza apparente fatica all'ottavo minuto la discesa di Comi con l'assistare trato per Jacopo Ferrella la sua conclusione di punta respinta da Giussani al 19esimo invece attimi di autentico terrore perché sul rilancio di Maggioni Baresi salta sopra per il Sinotto che cade con tutto il corpo sul gomito sinistro procurandosi una lussazione dello stesso per lui ospedale tanta tanta paura ma è un Seregno padrone del campo la Pro Sesto che non ci capisce davvero nulla nella ripresa al 35esimo pellegata al suo destro dopo una bella azione personale bloccato a terra da Giussani poi al 45esimo Barbieri dentro l'area per Malaspina che controlla bene prima conclusione rimpallata la seconda murata da Giussani in uscita allora paura perché al quarto dei 7 minuti di recupero Valtulina spreca malissimo una favorevole punizione dal limite e allora a tempo quasi scaduto Ferre dentro per Malaspina e questa volta controlla bene dribbla Giussani in uscita e deposita in rete il gol del 2-0 il gol che certifica il successo nel derby da parte degli Azzurri tre punti meritatissimi in un incontro davvero delicato al Breda Seregno che dunque sale a quota 26 in classifica distacca di 5 lunghezze proprio la Pro Sesto e tira un bel sospiro di sollievo in attesa del ritorno al Ferruccio domenica contro l'Olginatese Grazie! 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 Grazie!